3 3 3 questo anno il 2023 è l'anno migliore di bitcoin degli ultimi tre anni ragazzi il migliore anche degli ultimi cinque tranne ovviamente il 2021 che abbiamo fatto i fuochi d'artificio ma non è facile trovare un'annata di bitcoin così rosea negli ultimi anni ragazzi tant'è vero che vedete soltanto nel 2020 aveva fatto di più in tutti gli altri anni negli ultimi cinque anni ha sempre performato di meno nel silenzio attonito di molti che ancora attendevano una fase di bassista già inizio anno non seguendo il trend come dico da una vita ragazzi trend is your friend mascherato no come il cavaliere mascherato andava in giro e saliva pian piano e alla fine non mi riesco a mettere il cavaliere mascherato qui davanti alla fine è arrivato sostanzialmente a fare uno dei migliori anni degli ultimi cinque anni il secondo migliore anno ma il migliore degli ultimi tre anni ragazzi allora bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video video recap 12 mesi di rialzo per quanto riguarda bitcoin vicino a dei livelli di resistenza importanti oggi ha tentato un primo attacco alla resistenza dei 38.000 facendogli fare track track non ero convintissimo che sarebbe andata bene e in effetti sta lottando c'è un motivo ciclico ma ne parliamo lunedì e dopo questa resistenza c'è la successiva che secondo me è imponente difficilmente insomma riuscirà a raggiungere la O-ROM per l'addirittura nell'arco del 2023 secondo me i giochi sono quasi fatti per questa fase e poi dobbiamo attendere mancano veramente pochi pochi giorni ma non mancano pochi giorni anzi mancano anche pochi giorni al black friday ragazzi che oggi è black friday e io vi mostro tutte quelle che sono state le offerte di trading on per quanto riguarda i corsi di formazione che sono stati realizzati da me e tutte le super offerte del percorso più importante e migliore nell'ambito delle criptovalute per chi vuole diventare un trader professionista e chi vuole anche imparare ad investire in maniera coscienziosa applicando le regole di trading all'ambito investing e capire quello che sta facendo senza essere uno struzzo e essere in balia delle onde abbiamo fatto una super live che vi lascio il link in descrizione di questa super live nella giornata di mercoledì dove sono stato un po' aggressivello tra le altre cose su alcuni concetti perché negli ultimi mesi ho visto tante tante live insomma tante sfaccettature di canali che non conoscevo vi dico francamente prima e ho visto sempre questo tentennamento nel cercare di considerare l'ambito della formazione come chissà che cosa quando appunto invece la formazione dovrebbe essere il fiore all'occhiello di ogni attività ragazzi e di ogni professione e questo non lo dico perché faccio il formatore ma lo dico perché io stesso sono un esempio pratico di questa cosa ma poi da quando diciamo l'attività di formazione è diventata negativa no ok quindi a prescindere dall'utilizzo che se ne fa formarsi è la cosa più importante nella propria vita per migliorare sempre anticipa i mercati che il profitto proteggiti dai rischi essenziale assolutamente io ho eliminato tutto il superfluo in questo percorso di formazione voi trovate grandi spazi di crescita anche se siete degli utenti già schillati ragazzi grandi spazi di crescita perché vi strutturate a livello mentale e a livello di impostazione è un corso che ha avuto grandi risultati con oltre i 206 recensioni tutte quasi 5 stars su Traspilot ragazzi io sono molto fiero di questo percorso ormai lo avete compreso ci sono anche poi all'interno dell'academy tutti i vari nostri bot l'attività che stiamo facendo proprio ieri le ultime modifiche tra le altre cose in academy diventeremo semi automatizzati quindi quasi bionici nell'arco dei prossimi mesi e mezzo ci siamo quasi abbiamo ultimato gli ultimi esperimenti quindi tutto il nostro trading diventerà aiutato dalla parte artificiale quindi non è diciamo è un'intelligenza artificiale però in realtà sono robot artificiali che ci aiuteranno a inseguire quelle che sono alcune strategie in aiuto a quello che sono i trading discrezionali quindi una nuova evoluzione di questo modo di operare sui mercati più professionale più tecnica più sicura meno emotiva più con appunto il martello di Thor in mano ragazzi veramente molto bello solo tre giorni ragazzi lunedì finisce il break friday approfittate assolutamente di questa offerta se avevate intenzione di formarvi perché è un momento propizio poi c'è Natale in mezzo e vi darà anche la possibilità di studiare soprattutto cavalcare quello che potrebbe essere la boom run del prossimo anno che è veramente interessante secondo me da andare a vedere qui trovate tutti i pack e tutto quello che c'è dentro vi lascio il link in descrizione basta così andiamo a ragionare sulla questione di bitcoin quali sono state le cause di queste 12 mesi di rialzo quali sono e saranno le influenze sul mercato delle criptovalute e quali invece possono essere le prospettive future per esempio per il prossimo anno analizziamo un po' questi tre concetti in questo video ragazzi allora l'anno 2023 si svolge all'insegna e senza ombra di dubbio della questione legata all'etf di bitcoin cioè l'istituzionalizzazione di bitcoin e il fatto che diventa in maniera inequivocabile poi diventerebbe sostanzialmente un asset a tutti gli effetti quindi inserito negli etf regolamentazione che prosegue va avanti con il discorso binanza non ne parliamo oggi ne parliamo lunedì perché come sempre è inutile parlare di cose appena escono se vogliamo andare a fondo ma è più corretto ragionare su quelli che possono essere le reazioni successive dando spazio al mercato anche di dire la sua e di farci capire questi movimenti comunque ho tante idee anche sulla questione binanza ne parliamo lunedì ma anche la questione binanza dimostra che in sostanza noi abbiamo assistito ad un tasso di regolamentazione in crescita che è quello che poi fondamentalmente ci interessava da alcuni punti di vista o meno da altri allora la questione regolamentazione l'abbiamo affrontata diverse volte pro e contro scrivetelo nei commenti magari dibattiamo un po' io non sono né pro e né contro vi dico la mia non mi piacciono le regolamentazioni sono necessarie però da alcuni punti di vista in sostanza se vogliamo fare passi da gigante siamo quasi obbligati un po' a ragionare magari sarebbe consono adattare quello che è un mondo come quello delle cripto a quello che è un mondo old economy e cercare di plasmare entrambi no magari prendere un po' l'uno dall'altro secondo me questo non sarà fatto però sostanzialmente non c'è un'altra soluzione al momento da questo punto di vista allora regolamentazione ed ETF sono stati i due carri trainanti di questo fattore di rialzo l'ETF ancora non è arrivato ma dovrà arrivare e tempo fa pubblicato sul mio canale Twitter un ragionamento che parlava appunto di un amministratore delegato di un CEO di un fondo di investimenti che ragionava sul fatto che Bitcoin non sarà un sell on news quando ci sarà la notizia dell'ETF ma sarà un buy the news una prima e unica eccezione al motto che effettivamente da sempre è così quindi buy on news perché? perché l'ambito ETF su Bitcoin in effetti produce un'anomalia di natura fondamentale fondamentale cioè l'incremento del tasso di domanda e questo ne abbiamo parlato chi mi segue da anni ragazzi che per avere una struttura di equilibrio di mercato non dovevamo solo guardare alla questione che Bitcoin fosse un bene scarso ma dovevamo anche guardare al lato della domanda che doveva ovviamente aumentare intanto ragazzi per chi di voi sta guardando questo grafico state anche notando che c'è una lineetta che vi faccio vedere tra poco qui con la scritta max 1 è ok che lo so che alcuni di voi sono lì come me fissati con i grafici e guardano queste cose allora sostanzialmente se noi ragioniamo sul fatto che la domanda aumenterà per via della richiesta degli ETF se avranno successo chiaramente c'è un fattore di natura fondamentale proprio e questo fattore di natura fondamentale va a implicare che in effetti un buy the news potrebbe starci cioè sostanzialmente in questo contesto non è l'uscita di una notizia già scontata sì è vero una notizia scontata ma sarà anche scontata adesso secondo me nei prezzi di Bitcoin però c'è una modifica sostanziale che va a incidere va a incidere da un punto di vista tecnico c'è della domanda per un bene scazzo questo è il discorso quindi sostanzialmente potremmo avere il sell the news di brevissimo periodo e poi magari invece un medio lungo periodo che venga sostenuto che vada a sostenere il pricing di Bitcoin vi faccio vedere anche un'altra quasi anomalia tecnica ma non è un'anomalia per Bitcoin però sicuramente è importante 1,2,3,4,5 questa è la sesta se chiude così manca ancora un paio di giorni settimana verde di fila tra le altre cose questa settimana dopo le precedenti va a indicare che Bitcoin si è infilato in una struttura all'interno di questa fascia di oscillazione fascia di oscillazione che probabilmente tenterà di tenere a bada Bitcoin per un po' di tempo quindi è probabile assistere agli ultimi hype che in effetti vedete qui citato ve lo dico alla fine del video che cos'è questo così che ne parliamo poi nel video precedente quali infatti ci saranno diciamo dopo questi 12 mesi di rialzo il terzo miglior il miglior anno degli ultimi 3 e il secondo miglior anno degli ultimi 5 anni di Bitcoin 130% di rialzo quali saranno gli esiti di questa questione qui allora gli esiti sono già visibili nel famosissimo grafico che io vi avevo messo in visione negli ultimi video cioè quello che riguarda la total market cap di Bitcoin escluso la total market cap delle cripto escluso Bitcoin ed escluso Ethereum ed escluso le stablecoin cioè solo depurate tutto il settore delle criptovalute che è questo qui allora ve lo faccio rivedere perché intanto vi voglio anche mostrare come il livello che vi avevo indicato è stato il livello sentito dal mercato ed in effetti il mercato ha avuto una fase di ribasso che è stata strutturata in questa settimana fase di ribasso perché questo è un livello di super resistenza attenzione che una resistenza del genere non può essere in nessun modo considerata statica ma deve essere allargata ad una fascia temporale ad una fascia di prezzo questa fascia di prezzo è esattamente questa zona qui che in questo caso è una market cap ed è tra i 320 billion e i 300 billion 294 più o meno gli attuali pricing allora il fatto che questo rialzo si stia trasparendo alle criptovalute è innegabile questo ci dà spazio anche alla questione della Burran di cui abbiamo parlato nell'ultima live motivo per il quale anche io stesso ho spinto anche molto ragazzi sulla questione del Black Friday dei corsi per la preparazione e la formazione per evitare di commettere i soliti errori che sono già stati fatti tante volte nelle Burran delle criptovalute per favore non li fate più ok? e dopo che lo diciamo veramente diverse volte è peccato quindi anche in preparazione di quello che sarà il 2024 dovesse avvenire un breakout del genere bisogna essere preparati e soprattutto sapere quello che state facendo ragazzi non è che dovete diventare i trader numero uno al mondo sapere quello che state facendo è importante molto più importante di tante altre cose di fare il 1000 per il 7000 per imparare quello che si sta facendo e comprendere quello che si sta facendo vi darà la possibilità di cavalcare questo eventuale Burran in maniera più naturale possibile ragazzi allora vi faccio comprendere il discorso qui l'ultima volta che era avvenuta una barra di congestione di questo tipo che era anche molto più ampia e molto più volata e attenzione quando è stato dato in là a settembre ottobre del breakout di questo livello questo è stato l'esito poi di questa fase per quanto riguarda le cripto in generale qui stiamo tra le altre cose parlando dell'intera market cap quindi qui dentro trovate anche tutti gli scam e tutte quelle criptovalute che sono crollate a picco quindi se poi andiamo a fare un cripto picking anche perché non è che andiamo a comprare 2000-3000 cripto andiamo a fare un cripto picking su quelli che sono i progetti interessanti che hanno trend interessanti come ho spiegato nella live che vi lascio sempre il link in descrizione ragazzi che ho voluto lasciare pubblica quella live di presentazione anche delle offerte capite bene che questi 800-900% di rialzo sono anche pochi perché in realtà alcune cripto importanti hanno fatto molto di più e probabilmente avverrà la stessa identica cosa quindi il trasferimento da parte dell'attenzione da bitcoin alle cripto avverrà secondo me quando? quando quando la questione etf sarà completata quando tutto quello che c'è da spremere in questo momento su bitcoin e la questione il lato etf sarà completato quindi la prospettiva futura a questo punto ragazzi e la capacità e le possibilità speculative per il 2024 sono secondo me importanti c'è solo un cigno nero un unico cigno nero cioè il fatto che questo etf non venga approvato quello sì che non dovrebbe cioè sarà un brutto cigno nero una brutta notizia e lì dovremmo rimettere i remi in barca e capire quello che ci sarà da fare poi c'è anche un'altra cosettina piccola che bisogna stare attenti e qui mi metto la maschera e faccio l'uomo con la maschera però prima di dirvela vi faccio vedere la linea che vi avevo promesso e poi vi dico quest'ultima cosa e chiudiamo il video questa linea di max io l'ho tirata su a 7-8 mesi fa ed è la linea che temporalmente indica il la fine teorica di questa fase rialzista a livello temporale di un possibile massimo di periodo prima della chiusura ciclica che ci attendiamo a questo punto marzo aprile per il 2024 in teoria quindi le je ne ferai e ne va plus quasi tra poco secondo questa teoria non sono ancora convinto che sarà così però questa io l'ho fatta 7-8 mesi fa non mi ricordo qualche mese diciamo 6 mesi fa sicuro di solito le strategie e le analisi che vengono tirate su tanto tempo prima sono molto molto veritiere e bisogna stare attenti hanno grande probabilità di verificarsi però devo rianalizzarla ne parliamo meglio lunedì questa è una zona di massimo e coincide con la metà del mese di dicembre e ovviamente anche in questo caso il raggiungimento dell'area 42 dovrebbe essere teoricamente un'area di massimo già in eccesso quindi molto spinto dal mio punto di vista allora ritornando alla questione speculativa e al cigno nero se tutto fila liscio l'anno 2024 sarà un anno che dopo questa fase che vi dicevo appunto di riposo che dovremmo avere a chiusura di questa struttura ciclica potrebbe dire la sua ed essere molto interessante c'è da dire però che questa fase di riposo arriva proprio dopo gennaio quindi o facciamo l'ultimo hype se l'etf viene approvato e crolliamo poi crolliamo relativamente insomma andiamo a tornare a respirare un po' crolliamo per dopo questa grande cavalcata oppure ci potrebbe essere da uomo con la maschera un falso una falsa idea generalizzata etf non viene approvato viene rimandato ulteriormente con l'idea che manchi qualcosa e poi si rigioca tutta la partita successivamente in questo caso avremmo in pratica una struttura in cui viene bocciato a metà in questo in questo momento crea una situazione di panic selling va a chiudere tutti i giochi rimanda al post halving poi invece si sistemano le carte e diventa di nuovo trainante nel post halving allora qui siamo proprio nell'uomo con la maschera però io il dubbio ce l'ho e vi dico ragioniamo anche su queste ipotesi cigno nero uomo con la maschera ovviamente io nelle miei trade nella mia attività di trading non la tengo in considerazione perché guardo i pricing e quindi trend is my friend perciò lo seguo e basta però la tengo sempre in considerazione anche quest'altro tipo di di idea prospettive future quindi a meno di uomo con la maschera rose per il 2024 e secondo me si trasferirà tutto sulle altcoin a momenti io ho già iniziato il mio crypto picking su alcuni portafogli abbiamo due progetti in academy il seven coins to the moon che lo abbiamo ripreso dall'ultimo anno dove avevamo fatto una ottima performance e ho aggiunto anche un'altra questione un altro progetto sempre portafoglio crypto che sto seguendo io insieme ad altre persone e lo seguiremo altrettanto non vi aspettate cose assurde tipo 8000 per cento perché io sono prudenziale ragazzi proteggere e accrescere i nostri investimenti questo è il mio la mia mission e perciò per me è più importante proteggersi che giocare il termo all'otto e quindi non vi aspettate cose anomale io non vado su progetti che vengono fare 10.000 per non mi interessa non è il gambling quello lo scopo di questo canale ragazzi noi siamo qui per comunicare trasferire io sono qui per trasferire quello che è il mio concetto di investimento il mio modo il mio mindset di investimento proteggere e accrescere il nostro patrimonio link in descrizione per il Black Friday non vi fate sfuggire a questa occasione e chi la fa è un bruffaldino ciao ciao